Ciao amici di Italia Talk Games, buongiorno, venerdì 8 dicembre, giorno festivo, ma io sono qua a raccontarvi tutto sui football 2024, prima però fatemi fare dei ringraziamenti proprio a voi. Vi avevo chiesto un regalo, anzi due, per i miei primi dieci anni di matrimonio, di arrivare a quota 16.000 iscritti, ma io vi avevo detto anche nel corso della settimana, ci siamo arrivati già ieri. Grazie, grazie a tutti i nuovi iscritti e grazie a tutti coloro che hanno fatto anche rendere realtà il nuovo record di likes nel primo video server aperti. Grazie davvero a tutti, grazie ai nuovi iscritti, grazie ai vecchi iscritti, grazie, grazie, grazie. Comunque, oggi sono dieci anni e un giorno di mio matrimonio, potete continuare a iscrivervi al canale, potete fare anche oggi un ottimo risultato di likes per questo video, perché di cosa raccontarvi ce ne sono tanti. Ah, grazie anche per tutti gli auguri di buon anniversario. Ieri dalle 18 ho festeggiato con mia moglie, siamo usciti, eccetera, quindi non ho potuto ancora rispondere ai vostri messaggi dai curi, ai vostri messaggi e alle vostre domande. Adesso, in giornata, c'è anche da recuperare tutta la nottata di Game Awards. Su italiatogames.it troverete tantissime notizie, però sono partito dai football 2024, ma cercherò di rispondere sempre a tutti. Se non ho ringraziato personalmente, comunque sappiate che se avete lasciato gli auguri e se mi è sfuggito, io vi ringrazio davvero tanto. È stata davvero ieri una bellissima dimostrazione di affetto e fanno bene queste cose, ve lo assicuro, fanno davvero bene. Veniamo ai football 2024. Io vorrei iniziare, adesso ho ringraziato tutti voi, devo ringraziare un'altra persona e forse lo dovreste fare anche voi. Questo uomo qui, Makoto Igarashi, questo nerd giapponese, che è il nuovo produttore di football 2024. La nuova fase di football è veramente mutata rispetto al passato e io presumo che il merito sia proprio il suo. Il cambio di passo rispetto a Kimura è pazzesco. Quello che abbiamo avuto ieri non l'abbiamo avuto in sostanzialmente un anno e mezzo. Abbiamo avuto molto, ma molto meno, un anno e mezzo. Ieri abbiamo avuto tanto, tanto di più. È cambiata la comunicazione, è cambiata la qualità dei trailer, è cambiato tanto. Questo uomo dovrebbe essere ringraziato da tutti noi perché ha dato veramente lui il boost ai football 2024. Speriamo che continui così, speriamo che nessuno gli mette bastoni fra le ruote perché c'è ancora da fare tanto per i football. Ci sono tante cose, non è arrivato il crossplay, non è arrivato il cross save, non è arrivato l'editor, non è arrivato la master league, non si parla ancora di 11 contro 11, tante cose, tante cose. Però io vedo il bicchiere molto mezzo pieno rispetto a quello che abbiamo avuto nei mesi e anni scorsi e reputo che il merito maggiore sia suo perché il resto non è che è cambiato, non è che il football non è più di Konami, non è che il football abbia avuto chissà che cambiamento. È merito soprattutto suo. Il nuovo produttore sta lavorando bene, speriamo che continui così. Massimo ringraziamento, massimo sostegno e massimo supporto. Igarashi-san, grazie davvero per l'aggiornamento che, ripeto, non porta tutto, ma ha davvero fatto il cambio di passo, ma il league non sarà la master league, la co-op non ha, però ragazzi la strada è quella giusta, secondo la mia opinione e la strada imboccata che deve essere percorsa, ma quella giusta l'ha imboccata questo signore qui, staremo a vedere i prossimi mesi, i prossimi anni, se continuerà così l'inizio è stato eccellente, non è stato perfetto, è stato eccellente e, ripeto, ci sono davvero, andiamo nella strada giusta, l'abbiamo imboccata almeno, poi bisognerà vedere, ripeto, diciamo così, se il buongiorno si vede dal mattino, se sono rose, fioriranno. Allora, ieri abbiamo sviscerato tanto, quasi tutto, c'è rimasto il dubbio di questo nuovo booster Marrore, che si attiva questo giocatore Nakamura quando in campo ci sono tutti i giocatori della J-League. Staremo un po' a vedere se prima o poi Konami ci svelerà questo nuovo booster, che sembra un booster di squadra, infatti ricordate sempre le condizioni di attivazione, eccetera, eccetera. È interessante come cosa, dovremo però vedere, monitorare anche questa cosa qui, che per il momento non è stata ancora spiegata in dettaglio, si vede solo nel trailer. Anche questo si vede nel trailer e a tutti coloro che me l'hanno chiesto, cercando di rispondere, comunque si parla di festive season campaign, probabilmente saranno i regali che verranno dati durante il periodo delle feste, magari o dall'11 dicembre o più probabilmente dal 18 dicembre o dal 21 dicembre, non lo so. Comunque ci sarà, penso, una lotteria, un piccolo pool con otto giocatori, Hernandez 96, Giroud 93, Pulisic 93, Musa 92 del Milan e Bastoni dell'Inter, Turam dell'Inter, Quadrato dell'Inter e Sommer dell'Inter, che potremo pescare special login present, cioè regalo a login. Li potremo prendere tutte otto, noi potremo prendere tutte quattro, questo non lo so, però sicuramente arriverà qualcosa. Non è arrivato ieri, l'abbiamo visto chiaramente, non so se già arriverà lunedì, vedremo. Comunque è periodo delle feste, si può anche comprendere facilmente dalla grafica, pupazzi di neve, regali, albero di Natale. Quindi arriverà ragazzi, solo un attimo di attesa. Poi per gli amanti dei nuovi volti, qui c'è questo GDF Smaker che ha trovato tutti i volti, non ve li leggo tutti, magari se volete mettere il fermo immagine ve li leggete, vi leggo solo quelli dei giocatori italiani, dei giocatori del campionato italiano. Falcone, Pererero, Scuffè, Sommariva, Ianc, Tamez, Indica, Pobega, Casale, Castellanos, Strefezza, Reinders, Adli, Carlson, Baccar, Laurentè, Serdar, Fagioli, Samardzic, Kamenovic, Gatti, Baschirotto e Miretti e anche Casami in Serie B. Qui c'è una seconda parte, altri giocatori, come potete vedere, FC Champions League, Thai, Yasuda J-League, J-League, American League, Other Teams, Messico, Brasile Rao, eccetera, eccetera, eccetera. Qui poi, ragazzi, una buona notizia, abbiamo visto ieri tutti i premi del giochino dei rigori, in cui ci sono Cristiano Ronaldo e Coble. Nel InniFootball Hub, in questo database, diciamo, dei giocatori gratis, oltre alle leggende che abbiamo visto ieri, Maradona e Costa Curta, ci sono anche Savic e Cialanoglu, quindi significa che Konami ha lunghi piani per questo giochino quotidiano dei rigori. che vi ricordo, non importa se sbagliate il rigore, andate avanti, però vi arriveranno i regali un pochino più lentamente. Voi entrate quotidianamente, provateci, se va male, ci provate il giorno dopo, però è un modo per entrare tutti i giorni nei football e per avere più premi possibile. Lo ricordo, il primo premio è Neymar e tutti quelli che mi chiedevano, ma com'è che non ho Neymar? Magari, ragazzi, un giro solo, no? Dovete fare tutto il gioco dell'oca, diciamo, dei rigori e più ne segnate ogni giorno, cioè uno al giorno, quello che dovete segnare lo segnate e più rapidamente arriverete al regalo, prima Neymar e poi vedremo come funzionerà questo mini pool con Cristiano Ronaldo, Convel, Maradona e Costa Curta. Dopo che avremo fatto tutti i giri del mondo, ci saranno nuovi pool e oltre due leggende, probabilmente, ora sto ipotizzando io, ci saranno anche Savic e Cialanoglu. Questo, ragazzi, è l'unico pool certo per lunedì. Torna il team selection del Barcellona e sono contento che torna in team selection. Magari non lo girerò, però tanti di noi sentono la mancanza di questi pool squadra, che a volte erano molto interessanti. Lewandowski, Ter Stegen, Ferran Torres, Gavi, Rafinha, Alejandro Balde, Oriol Romeo, Marcos Alonso e Fermin saranno i giocatori di questo pool che arriverà lunedì, ripeto sempre, 99%. Football Hub non è un pool, non è un sito ufficiale di Konami, ma 99% delle volte ci prende e poi l'avevamo, mi sembra, anche già visto nel trailer. Poi, ragazzi, Pumete, qui ci sono tutte le nuove leggende epiche, chiamatele come volete, del gioco, sempre raccolte dai Football Hub. Giocatori inediti del tutto, nuove versioni dei giocatori. Per lunedì non c'è un pool specifico, non so se arriverà lo stesso, magari lunedì si aspetta un secondo. Comunque, Cruyff, Rummenigge, Cantona, l'abbiamo visto nel trailer, Ervannister Roic, Michael, Del Piero, Maldini, Oenes, Lampard, Zamorano, Rivaldo, Forlan, Beckham, Raúl, Milito, Liumberg, Aldair, Dixon, Bergomi, Peppe Bergomi, Petit, Mendieta, Kagawa, Pizzarro, Zico, Zico versione flamengo, abbiamo visto quell'iniziativa promozionale. Luis Garcia, Evair dell'Atalanta. No, non è la prima leggenda dell'Atalanta, perché c'erano i due fratelli per Cassi, ci sarà Evair, o padre e figlio, scusate, non mi ricordo mai, per Cassi, ho un vuoto di memoria per i per Cassi, se erano fratelli o se erano padre e figlio. Comunque, un'altra leggenda per l'Atalanta, Evair, io avrei messo Stromberg, onestamente, un giocatore che ricordo proprio gli anni Ottanta tantissimo, però ci sarà Evair, almeno da, come dice qui, i Football Hub, Abe, Safesali, Chanatip, Sonkrasin, Nakamura e Pratama Arkan. Questi sono i nuovi giocatori epici e, come vedete, tutti sono in doppio volto, quindi dovrebbero essere bustati. Però, ripeto, non c'è un pool, almeno per il momento, in i Football Hub, quindi dovremmo stare a vedere un secondo quali, se ci saranno già lunedì, o se magari lunedì, un attimo, con tutte queste novità, con tutti questi pool, si prenderà un secondo da parte di Konami e magari le leggende si riprenderanno da lunedì dopo. Non lo so, non c'è un pool, lo ripeto, non sono National Midfielders, Italian Defenders, English Attackers, eccetera, eccetera. Non c'è, non c'è, quindi non possiamo dire in questo momento se ci saranno leggende, però tutti questi giocatori sono stati inseriti nel database di gioco, che, ripeto, a volte passano mesi, mesi e mesi, prima di vederli poi nel gioco finale, cioè dove noi giochiamo. Però, indubbiamente, Cantona è un gran bel giocatore, una gran bella persona, molto interessante, molto carismatica, e poi ci sono tanti altri giocatori, tante nuove versioni di giocatori, insomma, un bel po' di cose. Poi ci sono anche altre leggende, già nel database, ma che non sono ancora arrivate nel gioco, tipo Materazzi e tanti altri. Staremo a vedere, ragazzi. Per il momento, per il momento, è tutto. Vi do appuntamento questa sera con il campionato. Ieri siamo partiti bene. Sono davvero curioso di vedere cosa succederà quando arriverà in divisione 3. C'è una strana cosa per cui alcuni che erano in divisione 2, come me, sono stati portati in divisione 4, qualcuno è stato portato in divisione 5. Mi chiedo se la valutazione della ranna a divisione più alta abbia inciso meno, se è un bug. Questo io, ragazzi, non ve lo so dire. Staremo a vedere, staremo a vedere, ma intanto giochiamo serenamente dopo questo aggiornamento 3.2.0, che, ripeto, non è perfetto, ma ha cambiato davvero passo ai football. Speriamo che continui così. Io vi ringrazio per l'attenzione. Aspetto i vostri commenti, aspetto i vostri likes. Adesso arrivare a quota 20.000 è l'obiettivo per il prossimo anno. Intanto abbiamo superato quota 16.000 e non posso ringraziarvi, perché senza di voi sarebbe stato davvero impossibile. Buona giornata, ragazzi. Buon venerdì festivo. Ci vediamo stasera alle 20, salvo breaking news, ma su italiadoogames.it. Se amate tutti i videogiochi, non solo quelli di calcio, troverete tantissime notizie oggi, davvero tante, tante, tante. Buona giornata. Ciao.